Intanto, Santella, hai visto che ho preso la velocità giusta? Io ce l'ho provato prima. Sì, ma se ne sono in davia. C'è un controllo regolare. Tanki, guarda, saluta. Saluta. Va bene, che bello. Guarda, guarda, esci. Sì, è bello. Mettiamo una furbetta che è pesata. E' quello lì che c'è. Quello che vi ha scolato tutti? Guarda, lì. Spettacolare. Ma se non lo so doveva? No, perché ve ne andate? Tardate. Grazie.